E adesso parliamo di nautica in Puglia. Dati e prospettive. A Bari è stato presentato il bilancio dei primi nove mesi dell'anno che evidenzia un sistema portuale pugliese in crescita costante. Vediamo di più nel servizio. Lunedì scorso nella sede della Presidenza della Regione Puglia, a Bari, sono stati presentati i dati relativi ai porti pugliesi. Il bilancio dei primi nove mesi dell'anno che ha evidenziato un sistema in costante crescita che dovrà essere sempre più innovativa e sostenibile. Nautica in Puglia. Dati e prospettive. È stato questo il tema al centro della conferenza stampa, a cui ha preso parte anche il governatore della Regione Pugliese, Michele Emiliano, che ha parlato di un costruttivo lavoro di squadra tra organismi governativi e regionali che ha permesso di rendere competitivo il sistema portuale pugliese innanzitutto in Italia. E il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi. Noi presentiamo il sistema portuale della Puglia, che è un sistema che comprende due autorità di sistema portuale, due porti core, un porto con la nuova nomenclatura extended core e praticamente ben sei porti in questo sistema. Sei porti che sono tutti i porti adatti per le crociere, che sono tutti i porti polifunzionali, tutti i porti in cui si movimentano le merci, tutti i porti che sono oggi già pronti per il passo successivo che è quello dello sviluppo della portualità coniugata all'industria. Questa capacità, questa potenza, questa potenzialità deve essere fatta conoscere. Non è una potenzialità che nasce da un giorno all'altro, nasce grazie a un lavoro di interazione, di collaborazione, di scambio di know-how, di competenze fra le autorità, fra di loro e fra le autorità e con tutti gli uffici della regione. Noi ormai ci presentiamo come un unico sistema in ogni dove. L'iniziativa di oggi tende ad aggregare i dati dei porti pugliesi, che normalmente vengono disaggregati ed imputati alle due autorità di sistema portuale, mentre oggi verranno presentati uniti e per far comprendere come la portualità pugliese abbia una rilevanza particolarmente significativa nel sistema portuale italiano e del Mediterraneo.